lo spiedo bresciano com'è questo spiedo cos'è? per quanto riguarda la cultura eccoci di nuovo all'ennesimo episodio di Brescia top trail oggi siamo sul Gardaleiche come vedete alle mie spalle più precisamente a Tignale per un tour davvero emozionante saliremo infatti da questo bellissimo paese verso il rifugio Cimapiemp per poi spostarci verso Passo Scarpapè e Passo della Puria fino a Cimatinaga per poi scendere sulla bellissima e croccantissima discesa davvero impegnativa una volta giunti a Brabione poi risaliremo verso il Monte Cass quindi al santuario del Monte Castello faremo il sentiero numero 266 a strappiombo sul Gardaleiche da non perdere e infine Giovambazza ha le macchine di nuovo a Tignale spettacolo vi ricordo che se vi è piaciuto il video mettete un mi piace qua sopra e rimanete connessi con noi di Brescia top trail spettacolo rifugio Cimapiemp eccolo qua che spettacolo con gli alpini pronti a fare lo spiedo inizia la galleria militare vi ricordo che siamo dal Passo Ere in direzione della Cima Tombea guardatela ci sono le feritoie guardate che spettacolo guardate che spettacolo spettacolo guardate che top trail oggi su Gardaleiche dove può piovere per secoli ma come vedete si asciuga subito bello lui bello guardate che spettacolo guardate che spettacolo bello bellissimo inizia la discesa Cima Tignalga discesa spettacolare fatta di tornanti tornanti e cambi pendenza da affrontare con molta delicatezza la prima parte wow 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 attenzione qua wow 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 yes guaci uh bella bella subito incazzata come piace a me wow yes yes yeah spettacolo 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 wow 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 mossa incazzata non si può sbagliare non si può sbagliare ma è che lascia più bella facci bella la tornantino da fare tutto Wow! Wow! Yes! Ver los... Mussels! E sentirlos mussels! Yes! Wow! Yes! Watching! Woo! Bello! Vai Miguel from Andar, vai eh! Yes! Woo! Drifting, drifting! Drifting, controllato! Bello! Watching! Su! Di noi! Watching! Vai! Bella lei! Smossosi! Tutta governante! Su! Watching! Super governance! Della bici! Sulla discesa di Cimati Naga! Wow! Governiamo! Governiamo la pene! Watch! Yes! 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 Ben tre! Dai che adesso... Dorniamo fino alla fine! Bene! Buongiorno! Yes! Occhio qua! Wow! Bellas! Bellas! Bella! Ci impegna attiva! Vai, vai! Vai per un altro! no stress, non si fa questo trappostretto bella bella lei guardi al bello scooper wow yes adesso è quasi domata wow 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 via via sgazzare bello è un tipo di smosso che non bisogna dargli troppo confidenza perché ti frega adesso qua è un po meno smosso più governabile tornantino ino ino stretto stretto si fa si fa ah 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 bella dai dai wow wow ragazzi che sbindellata è wow si chiuda yes yes bella non diamole mai troppo confidenza questo smosso che non ti perdona guaci guaci wow buona wow wow super super tornantini wow da si fa buona dai lo dai lo mi arriva un altro tornantino in regalo bella non lasciamo andare troppo il peso teniamola controllata galleggiamo sul pietrone dai che si apre la giornata si apre sul Garda Lake guardate che spettacolo guardate che spettacolo ragazzi il nostro Garda Lake in tutta la sua maestosità sole tornantino inolino prendiamolo giusto si stanno press si wow 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 tornantini in 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 wow wow bello super Garda Lake compra davanti a noi guardate che sono finita e ci metti noi ragazzi wow 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 bello tornantino wow yeah guardate che adesso è più rocide guardate che adesso è più rocide guardate che adesso è più rocide guardate che è più rocide wow torrentino Yes! Bella lei! Bella lei! Bella lei! Su! Guardalo! Un altro tornantino da fare 1, 2, 3, 2, 2 Wow! Guardi! Super! Super Goduria! Super Goduria Orgasmica su Gadalei Oh yeah! Ora ti arrivo! Guardi! Dai che lo facciamo stretto Yes! Via! Adesso c'è un tornantino a sinistra Su via! Wow! Buona! Buona! Vino! 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 Wow! Vino! 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 Uzz! Uzz! Vino! ed ora la caverna a trafiumbo sui Gardalei wow 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 they have to drain wow trafiumbo trafiumbo ragazzi wow 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 guardate yes spettacolo guardate che trade con lo strapiombo il lago di garda ma ben protetti dagli alberi guaci 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 wow saltello bello e ora skyline sul garda lake ecco arriva del garda bello 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 pulito leggermente umido sul fondo quindi teniamola con il grip giusto wow super bello bello eccoli dietroni wow buona libera yes yes bello bello molto bolusioso occhio sempre al grip control dobbiamo ciao buongiorno ciao buongiorno ciao buongiorno buongiorno ciao buongiorno bella bella apriamo il gas libera wow bene il tour è finito vi ricordo se vi è piaciuto il filmato di mettere un mi piace qua sotto di accendere la campanella qua sopra mi raccomando importantissimo per rimanere connessi con noi di Bersia Dog Trade e quindi alla prossima spettacolo Bersia Dog Trade Grazie a tutti.